Il DG dell'Arezzo ha affidato all'ufficio stampa del Cavallino il suo parere sul momento non facile che starà attraversando la squadra. Il massimo dirigente amaranto Paolo Giovannini ha ringraziato tutti per la vicinanza che ha avuto a seguito del grave lutto che lo ha colpito proprio domenica scorsa. Sul tesseramento recentissimo di Fabio Foglia, un nome già noto e stimato da queste parti, Giovannini ha sottolineato che il giocatore ha dato un grande apporto al Pontedera quando lo ha chiamato nel gennaio scorso. Fabio è rimasto legato ad Arezzo e il suo ritorno ci permetterà dice Giovannini di avere a disposizione un calciatore di esperienza che ha la possibilità di incidere. Sono certo, fa sapere sempre Giovannini, che quello che ha fatto nella passata stagione ora lo farà anche con noi. Tra i possibili partenti potrebbe esserci Forte che merita più spazio di quello che ha avuto finora e il baby Giulio Deama che necessita di fare esperienza. Per questo di sicuro andrà in prestito come concordato con il suo procuratore. Lorenzini intanto è già tornato al Trestina. Sul momento critico della squadra è opportuno essere consapevoli delle difficoltà e che momenti come questi in una stagione capitano sempre. Serve lucidità, impegno autocritica. È normale che ci sia preoccupazione tra i tifosi ma non sarà qualche giornata storta, dice Giovannini, a farmi cambiare idea sul valore di questa rosa. Tutti ci dobbiamo impegnare per alzare le prestazioni e arrivare allo scopo che ci siamo prefissati.